La Chiesa non deve lasciarsi sedurre dai soldi e dal potere, né adorare la santa tangente, ma la sua forza e la sua gioia devono essere la parola di Gesù. Lo ha sottolineato questa mattina Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta. Nel Vangelo di Matteo, ha commentato il Pontefice, Gesù scaccia i mercanti dal Tempio dicendo, sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Come durante l'epoca dei Maccabei, lo spirito mondano aveva preso il posto dell'adorazione al Dio vivente. Ma ora questo accadeva in un'altra maniera. I capi dei sacerdoti e gli iscrivi avevano reso impuro il Tempio. Sempre c'è nella Chiesa la tentazione della corruzione e quando la Chiesa invece di essere attaccata alla fedeltà al Signore Gesù, al Signore della pace, della della gioia, della salvezza, quando invece di fare questo viene attaccata ai soldi e al potere. Questo succede qui, in questo Vangelo. questi capi dei sacerdoti, questi scrivi, erano attaccati ai soldi, al potere e avevano dimenticato lo spirito. E per giustificarsi che erano giusti, che erano buoni, avevano cambiato lo spirito di libertà del Signore con la rigidità. E Gesù, nel capitolo ventitresimo di Matteo, parla di questa rigidità loro. E la gente che aveva perso il senso di Dio, anche la capacità di gioia, anche la capacità di lode. Non sapevano lodare Dio, perché erano attaccati ai soldi e al potere. A una forma di mondanità, come l'altro nell'Antico Testamento. Questi si sono arrabbiati. Gesù caccia via del Tempio, non i sacerdoti, i capi, gli iscrivi. Caccia via questi che facevano affari, gli affaristi nel Tempio. Ma i capi dei sacerdoti e gli iscrivi erano collegati con loro. C'era la Santa Tangente, lì, eh? Anche. Ricevevano di questi, attaccati ai soldi, e veneravano questa Santa. Grazie. 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 Grazie.